bentornati ragazzi su god of war 2018 nell'ultimo episodio avevamo salvato a treus almeno momentaneamente stavamo andando in esplorazione ci siamo tipo fermati un attimino a fare qualche trai sulla valchiria ma se ne facciamo un po anche stasera se poi vediamo che siamo bloccati si tornerà in un secondo momento senza troppi problemi non è una necessità farla adesso f**k a tutti Merda! Il suo problema è che si stronzi, si potenziano. Ho spinto a X, no? Il suo problema è un problema. ragazzi ma sto pieno di cristiani oggi pomeriggio stavano decisamente meglio era un po' più riscaldato non c'è anche questo Sì, non lo so, non lo so. Merda, I'm trolling, bud. Ma porca puttana, c'è così tanta merda sullo schermo che non capisco che sta a fare. Il problema di pezzo di minion perché mi devo concentrare a schivare pure loro. Stessa da sola, no? Che stai a... Vedi? Che stai a... Me stai a... Bruh! è il danno non questo è un cazzo di problema che quello se busta merda madonna palle che palle che non capi quello è un altro problema mio che non capisco i cazzo di dischetti che fanno no 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 merda e non ciò l'eva qui un po' presto di cosa cazzo sta pure quella tu sbagliati ragazzi un po' di pausa no 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 282 xp ma che cazzo sto a leggere ragazzi ma ma no 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 nascosto a mettere le valchiri hanno spesso bisogno di un luogo dove conferire lontano dagli occhi di Odino pensavano di essere al sicuro ma a quanto pare il padre di tutti vede ogni cosa dov'è? Ti ricordi la stanza con gli otto broli? Credo di sì siamo stati in così tanti posti è a sinistra delle statue dei due rematori allora non ve l'ho detto non ero sicuro scopriremo perché le valchiri sono così La camera aveva un significato speciale per loro La lo scopriremo E sono certo La prenderemo il cosiddetto Dick Comunque sono Veramente contento Del fatto che sono riuscito a farlo Anche a livello così basso Allora Poi abbiamo esplorato Recentemente Di pomeriggio Magari faccio giusto una ripassata veloce Allora Continuiamo l'esplorato Nel frattempo era Nella Nella cantina di Freya Giù stava Navalky Appunto Solo una a livello 2 What the fuck What the fuck Here we go Allora Lo devo trovare Ah Non credo che niente potesse superare questi rovedieri Bene E sbagliato E sbagliato Non è coccato il boom, ma da... Shuuu! Nice! evoco una stormo di corvi è esposti? questa è al mezzo sì dove stiamo? il vento della favoli l'altro mi manca ancora un co no penso di sì vento di helm ah era qua quello che è come cazzo ci arrivo allora di là lo porto sul ponte sì qui dal ponte dove inizia a portare giù no? sì però per portarlo giù dove lo metto? là dentro ci arrivo in 10 secondi vedremo avrei già arrivo già arrivo l'ho molla lo devo portare sopra l'ho molla easy clap un poteroso attacco turbinante che termine con un colpo secco è figo vero? sì ma pesanti non ce ne abbiamo sono solo leggeri what the fuck abbiamo risolto pure questo mo 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 la vera domanda è possiamo andare non penso ci sia altro che è rimasto in sospeso io direi ragazzi che forse è il momento di iniziare a fare un altro giro visto che a livello di roba da utilizzare per sbloccare cose dovremmo avere praticamente tutto vorrei dire una minchiata ma mi sa di si qui ci sono un'altra vasca qua non c'è più niente va bene direi che qua sotto casa di Frey abbiamo sei saltando scusate incompenso dietro di Frey mi sa che c'è qualcosa mi sto strangolando con la mia saliva ma l'ora dove stava il vento? ok si era qualcosa e la prendiamo l'ultimo corno moib eeeh qua penso sia tipo l'ultima tappa intanto mi do che trovarlo a questo modo posso salire teoricca ce la faccio a portarlo fino là ce la faccio ad arrivare la cosa non c'è non c'è non c'è non c'è Ah ma si è aperto direttamente Oh non era un corno A solo punto penso che abbiamo venito anche qua Allora I think we're fine Let's go Oh no abbiamo perso la nostra fermata Ah visto? La barca è a riva Qualcuno ha chiamato il serpente Non funziona ancora Sali, tiro io Sei silenzioso Non stai meglio Sì credo So che mi hai sentito parlare con Freya Tu credi di aver capito ma non è così Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio Mi credi debole perché non sono come te Lo so che non sono come volevi Ma dopo tutto questo credevo Che le cose fossero cambiate Tu non sai tutto ragazzo No Ma almeno ora so la verità La verità La verità Io sono un dio Di una terra lontana da qui Quando arrivai su questi lì Di scelsi di vivere da uomo Ma la verità è che Io sono nato dio E lo sei anche tu Allora Non hai niente da dire Potrei Diventar un animale Se puoi Diventar Un animale Si puoi Diventar Un animale Non credo Che tu possa farlo Sono un dio Mamma sapeva Ed era una dea No Lei era mortale Ma conosceva la mia natura Sono un dio E mi dì Perché aspettare tanto a dirmelo Volevo risparmiartelo Essere un dio Può voler dire Vivere tra angosce E tragedie E questo è il maleficio Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io Non mi sento un dio Non so quale sia la natura Dei tuoi poteri Ma con il tempo Lo capiremo Non posso diventare un lupo Puoi provare a sorprendermi È per questo che a volte sento le voci A te non è mai successo Non come a te Non mi sorprende Ogni dio è unico Quindi Forse non diventerò forte quanto mio padre Ma avrò abilità uniche? Ne possiedi già ragazzo Hai uno straordinario talento per le lingue Considerata la tua età Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace Tu l'hai sempre saputo Ebbene sì ragazzo Ma ho conosciuto fin troppi dei Mi hai compreso eh? Eccola L'altro sa che sono un dio Freya sicuramente Però che Sindri? Non gli serve saperlo Baldo Lo sa È per questo che ci dà la caccia Ma te lo scusi Ti monta la testa Ho visto Baldo la prima volta Il giorno del funerale di tua madre È la verità Ehi Non dobbiamo tornare alla camera di Pier Vero? Voglio dire Siamo dei Possiamo fare ciò che vogliamo Giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo rostro Mi sono a ruota Incubi No Non faccio Mazza quello Che cazzo ma è stato Un missile Ma È il veleno che stava per terra Perché non è arrivato Un altro Ah Ma che sei un dio? Non puoi ricaricare più veloce? Non puoi ricaricare più veloce? Gesù Christ Qua vedo un coso, per aprire sto robo Ehi, ehi, ehi Very nice Beh, complimenti Christ, questo è un potere veramente divino, eh Dio figliolo Spero ti sia piaciuto essere un dio finché hai durato Qua avevamo fatto Quello che qua adesso mi attacca al cazzo perché non lo posso chiamare l'ascensore Per qualsiasi motivo, non so perché le leve non Non rimangono presenti, veramente Ho sbagliato di nuovo, là dovevo controllare Che diamine ci fosse lassù Ma non ci dovrebbe essere qua dove abbiamo fatto l'easter egg Delle cose sono già accese Anche perché le altre non le possiamo ancora accendere perché ci manca un pezzo della lingua Ci frari Allora, vediamo un attimo qua Perché ci sono un posto dove non potevamo entrare Qua ci siamo venuti Qua ci siamo venuti 10-30 Fricamento Qua è dove abbiamo fatto la missione per Brock Quella dell'anello Che sarà successo all'equipaggio? Salgo per controllare che c'è qua su Perché non mi ricordo assolutamente Capisco qualche lettera qua e là Ma ci serve il resto del disco linguistico E non ci sia fu un cazzo Perfetto 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 Un giuramento su stai itiner Non è che abbia molta voglia Considerando la roba che spawn A Magari ci torniamo in un secondo po' ma qua non c'è il cuore non c'è perché se uno non vede sinceramente speravo che si stunnasse questo sta sempre a livello alto ho le lame che coglione devo richiamare ogni volta la scensura in questo caso forse è il meglio questo c'è giusto un paio di tre che già è il fatto di salire è scena di Naruto no si scude tutto manzappato no non penso lo faremo in questo momento gli leva o buono cioè la vita che gli leva era decente ma che altro cioè se l'ascensore fosse giù già sarebbe un passo avanti non è così quindi un momento ne farò a meno vediamo in here il post ah qua giusto quel test di cazzo non era a quel post che vuole anche perché qua abbiamo completato tutto ma quindi non funziona per tutti il teletrasporto non ancora almeno che vuole Non mi fermerò finché non saranno in pace. Che fava questo? Livello 8, ma che cazzo sto leggendo? Jesus. No, 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 no. C'è una cosa che tengo cancella. E che il livello è decisamente salito. Non c'è una roba minigurda. No c'è una roba minigurda. E' stato abbastanza bene... Voglio di spaccare il cazzo... Che palle sto scudo da merda! C'è questo? C'è questo? C'è questo? C'è questo? C'è questo? la puttana di suma madre beh tutto sto gulper niente per bestiare aggiornato non posso tradurre senza il codice intero poi ci facevano il culo non mi ricordo decisamente ci facevano il culo la risposta non cagliamo il cazzo a quel l'abbiamo capito finito qua i braccio non li potremmo accendere la posso andare una roba da aprire con lo scalpello non ci facevano non ci facevano non ci facevano non ci facevano eh dio madone guarda là che cazzo sta uscito il comitato non ci facevano Ma non stai tipo a frizzare? Non è? Eh non è? È un casino pure esplodere. Ti guardi! D. Disponente! Andiamo! La vana 3000 e siccome che appello una cosa vado al cimitero, non è proprio il momento. Mi dicono se qua ci fossi... Stiamo attraccando per cortesia. Non c'era una porta qua, no? Cosa? 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 Qua c'è il per cento, quindi inutri Vado Purtroppo sta diventando veramente problematico Io sto cercando di aspettare il più possibile D'evitare di livellare l'armatura No, mi sa che questa è come si Breve, terminerò considerando anche questa difficoltà Vedo un cazzo Qua non c'è proprio la manupa Poste perfetto Qua c'è lì? Qua c'è lì? Eccola di nuovo Appare e scompare Che sei? Questa è quel fazzuto corvo che mi vende per il culo perché non riesco a ittare Qua mi sa che c'era una roba da fare con il vento E non c'è muoio prima, random Ma non ero qua Possiamo attraccare qui Ma ti devi fermare Kratos Questa è un cazzo Sì, ma qua è impossibile che non ci sia avvenuto? Lego 100%, porca di quella puttana! Sì, è vero! il serpente la che stai cilando questo dove cazzo era l'isola con il coso del vento dove minchia non due di quattro squarci del regno, non squarci andiamo a vedere qua, ma non mi ricordo, porca puttina non ero qua e pensa andremo a dritto in questo... non sto ricordando dove diamine questa è la miniere era vicino al ghiaccio, ma non mi ricordo dove sembra quel corvo da ucciderlo la sopra non mi sono andato era là cazzo, ma vaffan sperando di non trovare nemici al 500 non ce ne sono di nemici, ti giuro che non mi offendo solo che ora c'è da capire dove parte il minchi... mi sa' che era qua giù si, e dove lo porto? là ah ah, il droppo da wasp non è rimasto attivo assolutamente no ok ma due cazzo assolutamente no non è rimasto attivo non vediamo ok coglio livello 500 mi lascia testa a livello 700 milioni a livello 500 milioni what the fuck what the fuck what the fuck ma sa qualcosa ma che cazzo è un film dell'orrore no è diventato Tremors, porca puttana che porca troia, ma adesso due xp madame ma vai, stai a cano scusami, non è capace salire di là? no, ma sto in fight ancora, ma con chi? questo non c'ha voglia di combattere veramente ho preso 10 xp e stavo scherzando ma la tristona, ma i'm fucking blind, bruh ma che sta l'altro ma che sta l'altro ha, caz, non è vero ma che sta l'altro è vero che è vero Sì! Era line qui! Il tuo cazzo lo vado a me! Dov' sta l'altro? Fuck me! Quello? Hai l'altro? Oh no! Sì! 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 ci avveranno i nostri ruoli oh let's go allora mo mo la dobbiamo portare la metto la, dopo che la picco la dove la metto la ce la faccio quella domanda? perché non penso di arrivarci dalla no 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 dove sta? mi sa che ne sta uno qua sotto piccazzudo là qui andiamo ora devo fare così senza problemi non so se ce l'ha no perché devo scendere da là perché di là non riesco decisamente a mettere di portarlo qua è servito un eh non posso metterlo qua ma ce la dovrei fare dentro non riesco a mirare non riesco a mirare non riesco a mirare la probabilità bassa di attivare un vantaggio che piazza una bomba incendiaria ritardata di 3 secondi qui ad ogni colpo che l'hi la mi assenno ai cììììììììììììììììì abbiamo aperto questo quà non c'è altro da fare qua non c'è altro da fare Aspetta, dobbiamo andare a fare un altro disco? Alla prossima! Sì, sì, sì Un furio crescente Un furio crescente È quella la risposta? Dice Terra In ghiotte la morte crea nuova vita Vai Ieri Se Adalfaim avessi saputo di essere un dio Non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi Non so se il senso sia proprio quello Non hai fatto nulla di cui pentirti Non ci hanno lasciato scelta No, adesso capisco Dovevamo sbrigare faccende da dei Ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi Sì, ma non gli dici niente Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte Forse ti senti troppo sicuro di te ora Dal tuo potere derivano grandi responsabilità Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri Come fece Tyr La gente lo amava, eh? Già Un dio della guerra Che si batté per la pace Famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine Usò il suo potere per porre fine alle guerre Mai per scatenarle Allora esistono dei buoni Sono molto rari, ma esistono, sì Non conosco i posti di cui si parla A Tyr piaceva viaggiare Tyr credeva che il sapere, più che la forza Avrebbe evitato guerre e caos Sapeva che la conoscenza di altre culture Gli avrebbe dato una prospettiva diversa Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé Mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza I mortali lo adoravano per questo E gli portavano doni da ogni parte del mondo Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti Invece di rubare i loro segreti per gli Aesir La stessa accusa che mosse contro di me Con Tyr, però, credo che avesse ragione Tyr aiutava i giganti Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce La torre scomparsa di Yotinac Proprio così Qualunque cosa le sia successa È stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti Testa Non lo so, non sono mai stato qui La pietra, deve essere quella Ti pareva Credevi fosse così facile No Non poi ci speravo Muoviti o non ce la fai Ma ci speravo Ma ci speravo forse Un po' A C'è Un po' Sì Si C'è L'uo Centrimento C'è oh 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 Ah, uno skin roo proveniente dalle mie terre In passato ne avevo uno anch'io Prendilo pure, ragazzo Prendilo Vado a servirci per spallare uno sul fai Ecco perché non piace a nessuno Ecco perché non piace a nessuno Ok, tocca Vare buona stanza Ma prima Prima sfruttiamo Very convenient E' questa? La mente è più veloce del vento Dobbiamo usare la testa piuttosto che i piedi Per me va bene Ma abbiamo già fatto Per uno così amato Tir era molto paranoico Sì Non avevamo tir A causa di Odino Ok Allora Scendiamo di là Inverno Ciao Vale Sì 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 Allora 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 Ah, molto carino. Come lo sapevi? Esperienza. Esperienza. I miei tempi. Oh, yeah. Guarda quello! Eccolo! Oh. 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 No, gira, gira il vaso. Cosa cazzo sta? Si ruppe l'osso del collo, amori. Egitto. Aspita, si, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Uno di tre e gli altri due. Intanto apriamo questo. Devo portare il vento là dietro. No, ma non devo portare. È una statua del cheezie. Sì, io penso che ci puoi portare. Proprio che sei là dietro. Non puoi fare finta di niente. Non puoi fare finta di niente. Non puoi fare finta di niente. merda bel casito il link li devo grabare con la spada un gioco che sia è un gioco è un gioco è un gioco è un gioco Che cazzo è successo? I'm getting fucked. I see. Ti servei io. Jesus Christ. Sculadola eh? Sono fastidiosi quei cazzo di come si chiama. Mi andavo di cazzare la come si chiama la... Riga. Grazie Adreus. Ben gentile. Questa è sparta letteralmente. Excuse me sir what the fuck? Stanname stannacciula il figlio. Bruh bruh. Il ragazzo è in pericolo. Anch'io sono in pericolo a quanto pare. Perchè porca p***a. Dai 700 all'un milione e mezzo di nemici. Non si capisce un cazzo là in mezzo. C'erano sette persone che mi attaccavano contemporaneamente. Il fucking man. Chi sta che spara? Non. Non si capisce un cazzo. Lascia se n'è andata di sotto. Ormai l'abbiamo aperta. Questo? No. No. Che stai a prende? Non ci rubiamo il tempo. Chi mi sta venendo? Però quello che ha fatto, porca miseria, speedy gonza! Meno male gli ha i frame, guarda. Oh wow, altri nemici! Quello si è spostato alla velocità del suono. La puttana qua! Sono morto a caso! Stavo a andare bene, sono stirato in due cose. Ci sono un sacco di droghe qui intorno. Paridaglio con sta mossa di me. Cosa stai combinando? Questo mi è venuto. Eh, sti porca puttana, fanno i kamikai. Posso avere delle pietre curative che erano ovunque prima? Non mi schiva, non mi schiva, non mi schiva! Un sacco di droghe. Poi che che erano due cose? Non mi schiva! Non mi schiva! PORCAPUS 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 Comito Questo è lo stesso che ero? Noo che c***o! Il Ragnarok inizierà quando dimorreranno sole e luna, vero? Tyr li conosceva. Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Ma quando dobbiamo fare di nuovo a botte? Non ti piace davvero essere un dio? All'avventura è in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci dividissima un po' Tutto ciò che abbiamo visto è fatto. Sono il prodotto. Mi ricordo dove cazzo sono le... Un po' che cazzo è un po' Un po' che cazzo è? Ma mi serve l'ultimo, che sta sicuro là dentro, ma non mi ricordo dove... Ma non posso salire, vero? Ma lo so che devo... Oh, shit, I'm dead! Oh, oh! E ti amine! Ma l'ultimo! La solita solfa! Eccolo! Eccolo! Oh! Che coglioni! In pre-fire si è dovuto andare! Eh! Ormai non mi serva più niente perché ho maxato tutto! Bene! Dove ho? Ma questa è un'altra stanza! The fucky! E' un nuovo scena! E' la stessa di prima! Ma... I'm going in circle! Oh no! Oh, mi devo casare! Cosa? E' possibile che mi caghi nel cazzo? In ogni luogo, in ogni lago? No! No! Non sarò pronto! A che corse sguison? Che fai va! Sì, eravamo venuti su per quello. Ah, ingegnoso. Tra l'altro ho buscolato perché sono non messo pure bene. Allò, dove devo andare? Non là. Ah, io... La runa sta scendendo. Che succede? Trappola. Padre. Ragazzo, battene via. Io sto bene. Come ti liberiamo? Tira le catene sul muro. Ma... Ce ne sono tre. Che cosa faccio? Atreus, calma. Puoi farcela. Bregati. Non so ancora se posso affogare. Ok. Ati è argentato. Corre la luna. Skull è dorato. Insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare. Ma non sono in ordine. Bravo. La luna va a sinistra. Il sole a destra. Il Midgard al centro. Quale leva ti? Quella a destra. Al centro. Su. Ce l'ho sbagliato. Ma... Io non ho come l'ho detto. Destra. Parmi non. Quella a destra. Ce l'ho sbagliato. Fuck off. A sinistra. Non la basso. Oh. Sbagliato. Ho sbagliato. 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 Una Midgard. Sbagliato. Una Midgard. Al centro. Sinistra. Intanto Mimì è riaffogato. Mimì? Non posso affogli. Ah ok. Non fermiamoci. Ehi! A quella grande catena! Padre! Sombra! Questo è proprio fantastico! Grazie, Tio! Ragazzo, ferma quella catena Come? Non lo so So cosa fa Il pugnale Non c'è altro modo Non funziona Non funziona Il pugnale Lo so Ma ti ha salvato Sei stato astuto Come dicevo Mi piace Era un privacy Bella misera Siamo per essere inculati A sangue Io ve lo preannuncio Sì Stai credendo Sta puttanata Che hai detto? Ragazzo Tieni Il giorno in cui nascesti Feci due pugnali Fondendo metalli della mia E di questa terra Uno per me E quando tu fossi pronto Uno per te Quel giorno è arrivato E sono un uomo ora Come te No No Noi non siamo uomini Siamo più che uomini La responsabilità La responsabilità è molto più grande E tu dovrai essere il migliore di me Hai capito? Dillo Io sarò migliore Il potere Di quest'arma Di qualsiasi arma Proviene da qui Solo se è temperato da questo Dalla disciplina Dall'autocontrollo Di chi la impugna È qui che risiede La vera forza Di un guerriero Non devi dimenticarlo mai Bene Bene Allora Vieni Tre Niente We're fucking dead Oh my god That's fucking great Isn't it Nice fucking hit Se ne è battuto proprio il cazzo Assolutamente no Fratello Bel casino Bel casino sì Ehm Bel casino sì Ah Ehm Tove it un giusto perché questo cazzo è successo oh no oh che culo mi devo spostare per me so right in the mouth hole that's fucking bs come stop come stop move it ci sta sto cagacazzo sto puffo gigante aia signor puffo stavo scherzando oh leva del cazzo bro addio sono troppo presto peccato stavo andando decentemente in realtà stava andando molto bene quello del ghiaccio era morto pure fuck me non capisco come cazzo lo devo evitare di lato probabilmente di sicuro di lato è la soluzione migliore certo se poi aspetto l'ultimo cazzo di secondo per evita la situazione diventa un po' più complicata devo spostare mi sento a stare cercando degli HP qui devo spostare non vedo che stanno a fare sì dead is dead me la volevo giocare un po' più mi lì ma i'm way too fucking scared for chainstun nooo i messed that up no di nuovo sbagliato cazzo son morto mado cazzo quando ne rimane uno è una puttanata devo solamente caricare l'ascia e lo stunlock perennemente se gli fai ciò headshot non devo fare sta puttanata però ho questa che cazzo ciò vuole da me ciò vuole da me cosa mi sta tirando la sabbia no signore ne restano due ed uno steven prit non pensavo caricassi da là dietro sto coglione and i fucking ok nevermind spin to win gigila una versata mantilla diciamo la si vaffan ecco le ultime parole famose girati non didn't fucking care about that no c'è un'altra usciamo ma che attendo che lo sta all'occo vedi questa è un po' pericolosa un po' pericoloso grazie 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 Jesus Christ puni truce niente di speciale misero troll e vai sono sotto sopra da che parte è la vasca di sabbia misero troll è tipo un'agitazione al primo Avengers uuuh mythico let's go hey c'è un regalo per me c'è una chiamata per me la realtà discreta ti ha un vantaggio che conferisce una barriera protettiva che impedisce nemici di infliggere i danni ogni volta tu sai ok tra le mani truvi un po' Unitruth Dopo tutto sto bucio del culo che ci siamo fatti Qui ci sono? Qui ci sono? Non è qui Qui ci sono? Qui ci sono? Qui ci sono? Qui ci sono? Siamo vicini alla meta Siete Vino Lemniano Dall'isola di Lemno Vicino a dove sono nato Lemno Alla fine del viaggio Posso? Puzza di uovo marcia Sarà ancora buono Può darsi Sì Padre Perché hai lasciato la tua terra? Ho combinato un casino È stato per causa degli altri dèi È solo Che tu odi gli dèi così tanto Ma Tyr dimostra che gli dèi sono buoni E tu sei buono Hai ucciso solo chi lo meritava Sì Ah Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio testa Noi sì Noi lo sappiamo Tu parli ogni giorno di più come tuo padre Pronto Pronto Andiamo Mi sa che mi piacerà essere un dio Mi sa che a me piacerà un po' di meno sopportarti Facciamo ciò che vogliamo E ora andremo dai giganti Avendo letto la runa del viaggio per Yotenheim Possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna E far buon uso dello scalpello magico Nessuno ci sbarrerà la strada Andiamo Il negozio è aperto Ah C'è brutto Oh finalmente Questo ti terrà fuori dai tuoi Ora vai a colfumare Ma tu hai detto Sì, che cosa vuoi? Che non si prende l'occhio? Sì, che cosa vuoi? Hai qualcosa in mente? Che buona cazzo! Ma cos'altro per te? Che ne l'ave canteranno ora! Nice, Juan! E tu? Posso fare un'armatura e basta? Quale cazzo mi faccio? Punitros! Siamo diventati swag, amici! Noi! Puoi da una cazzo! Puoi da un'armatura e poi stanna! Ancilla! Noi! Esa bella! Cazzo! Cazzo! Mammo, niente di particolare Anche se so sali di pochissimi, so al 4 Siamo a posto direi Siamo a posto direi Dove faccio direi No, io l'ho taciuto troppo a lungo Ma tu devi mantenere il nostro segreto Non riesco a leggere Vedi che sei un ignorante di merda No, non riesco a leggere No, non riesco a leggere No, la cesta Non è pop coach Bella quella, vedi che gli ho tolto comunque E non è cambiato Il suo potenziato si fa per dire Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ha i segreti Non dovremmo essere aperti come Tyr Tyr aveva segreti E per ottime ragioni Proteggere la gente È saggio essere discreti Ma non bisogna mentire agli amici O ai familiari Sindri capirebbe e farebbe lo stesso Non temere Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito Oh, se arrivassimo a Jotenaim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza Esaudire il desiderio di tua madre è ciò che importa Ah, oh, non ve ne andate Sarò da voi tra due secondi Padre, posso dirmi? No Dimmi cosa? Che ti si è messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare Non sto scherzando, mi viene da ribè Non è niente Storie di famiglia Oh Io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia Fammi indovinare Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo Tutte cose vere E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione Fa qualcosa a riguardo, chiudi il becco almeno Ho capito Sì Siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente D'accordo? Ti hai ferito? Diamo un'occhiata alle tue armi ora Se lo si finì qua è il tempo che ti apre il cranio Diamo un'occhiata alle tue armi ora Diamo un'occhiata alle tue armi ora Sì Diamo un'occhiata alle tue armi ora 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 L'hai preso? Non credevano che ci avrebbe fermato. Bene, da che farmi? Io ci non fu un cazzo, eccolo. Forse tu devi stare zitto. Che ne pensi? Ah, aumenta la velocità di ricarica di per maggiore un sacrificio. Perfetto. 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 E niente. E anche lui qui. E anche lui qui. E' stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. Perlomeno non era rita... Ridataria. Rida rugataria. Come c'è un coso del vento? Wait a minute. Sì, dove cazzo devo prendere? Vai là. Oh no. Unlegali blind. Oh no No, 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 no. Bastidioso, sto bimbo. Ma state zitto. Pure l'imbecile. Oh. 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 Grazie. Grazie. No. La cosa migliore da fare è suicidarsi! Buona vita lucella, no? Bello! No! No! La puttana! No! 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 Dove no! No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ruff. Ehm, è morto. No. Cosa? Cosa? È morto. Cosa? Sì, devo provare a tirarle l'ascio quando sta fuoco da morto, solo che ci devo arrivare perché ci metto un secondo veramente a farlo. Holy fuck! Cosa? Cosa? E che azienda? Il batallo rolla... E' un po' di più! Oh mio f**k! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto in Cina, raga. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Va andato benissimo, sono andato. Buongiorno. 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 che non si stunna mentre lo paro tanto a quanto vale salvo i free ma Quattro Quattro E' stato bene se vende una persona Eh no, uuuuuh! Matheus mi stavi a coq bloccà? E porchè? Aprire su sta cosa è stata proprio una cazzata! È andato troppo agro! È andato la mossa! Nooo! Troppo... cioè troppo presto! Fuck me! In realtà pure quel pop della... come si chiama? Non è stato mal della... ...dell'iro perché ho recuperato un po' di vita! E mi ci ho salvato dalla presa! F*** off! F*** off! Ehm... In realtà forse è meglio se li sparo subito... Stavo cercando di tenerlo il più possibile il colpo! Che poi c'è la faccia di... ...di Terrigame in dedo! No! 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 Oh s***! Oh s***! Oh s***! C'è che cosa è ancora più viene? C'è l'aperto! una barra di vita a risarsi male un po' bretto, ok, meno male Grazie a tutti. 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 Sto confuso per l'altro. Ah, shit. Troppo presto, troppo presto, troppo presto. Restart, restart. In ogni caso faccio un altro 3d agent. Sto pensando... Sto pensando come cazzo evitare quello... No, non, 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 non... no la cazza e se un morto per cui Grazie a tutti. 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 That was really fucking... It was a save. Tutto bene là dietro? E se stanno buttando il cervello è arrivato quel momento? Oh no... 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 Oh no...